Una morte inaspettata caratterizzerà le nuove puntate di Endless Love. Le anticipazioni rivelano in particolare che Tufan sarà vittima di un incidente stradale causato da Emir. Quest'ultimo scoprirà che Asu è stata aiutata dall'amico ad inscenare la sua morte e successivamente la convincerà a passare dalla sua parte. Emir chiederà così alla sorella di far credere a tutti di essere stata rapita da Tufan, trascinando il ragazzo in una vera e propria trappola mortale. Kaner morirà schiacciato da un camion guidato da un uomo di Emir sotto gli occhi di Asu. Asu inscena la sua morte. Le anticipazioni dei prossimi appuntamenti della SOP rivelano che Asu inscenerà la sua morte grazie all'aiuto dell'amico Tufan. L'ex moglie di Soidere vorrà depistare le indagini di Kemal, ormai certo del suo coinvolgimento nella morte di Ozan. Nello specifico, Alakahan farà ritrovare all'imprenditore minerario il suo letto sporco di sangue e attraverso una serie di indizi farà in modo che Soidere diventi il principale sospettato della sua morte. Chiamata ad occuparsi del caso, Merkan metterà insieme alcuni elementi ed accuserà Kemal di aver ucciso l'ex moglie. A quel punto, Soidere sarà costretto a fuggire alla polizia, fino a quando non troverà le prove che confermino la sua innocenza. Tufan muore sotto gli occhi di Asu Emir, non ci metterà molto a mettersi sulle tracce della sorella e non appena la intercetterà la convincerà ad allearsi con lui, sacrificando per sempre Tufan. Nel giorno prescelto della fuga, il perfido Cozcuolu ordinerà ai suoi uomini di recarsi nel rifugio di Asu, che griderà aiuto, facendo credere di essere stata rapita da Tufan. Quest'ultimo arriverà sul posto e quando vedrà l'amica scappare la rincorrerà con l'intenzione di aiutarla. Una corsa che si rivelerà fatale per il ragazzo, che verrà schiacciato da un camion guidato da un uomo di Emir. Asu assisterà alla scena e durante gli ultimi respiri di Tufan gli chiederà scusa per averlo tradito. Nelle puntate precedenti Nel corso delle precedenti puntate della SOP, Kemal aveva scoperto di essere il padre biologico di Deniz proponendo per questo a Nihan di fuggire insieme. Nonostante il forte desiderio della giovane Sezin di riappacificarsi col suo ex fidanzato, era stata costretta a dire di no, temendo la reazione di Emir. Quest'ultimo, infatti, aveva intercettato una telefonata tra Kemal e Nihan e aveva appreso che l'imprenditore minerario sapeva di essere il padre della bambina. Spinto dalla paura di perdere per sempre le due donne, Emir aveva minacciato Nihan imponendole di non rivelare a nessuno la vera identità sul padre della piccola. Grazie Grazie a tutti